Car Service, centro revisioni auto, moto, quad, tre e quattro ruote, officina meccanica e tagliandi a San Ponzo. Alessandro Alberto, dirigente di RG Lettera 22, ormai siamo imminente all'inizio della nuova edizione di Canestri Senzarelli. Sì, ormai è prossimo, siamo pronti, quest'anno tra l'altro avremo il piacere di ospitare, ce l'ha chiesto, una squadra tra le milioni in Europa per Blasone e il Partizan Belgrado, una squadra che ha fatto la storia del basket in Europa e siamo stati veramente molto felici e contenti di sapere della loro richiesta e di poter partecipare. Questo ha dimostrazione che questo torneo sta veramente consolidando la sua importanza nell'ambito giovanile. Ricordiamo che è un torneo Under 14, quindi ragazzi quest'anno del 2000, quindi dell'importanza che continueremo ad aumentare, speriamo. Senti, vuoi ricordarci le date di questo torneo che a livello di basket Under 14 è sicuramente il primo in Italia? Sì, certamente, le date quest'anno inizieranno, anzi come sempre, dal 27 dicembre al 30, quindi il 27 è un venerdì e le partite si snoderanno in queste tre giornate per culminare il lunedì 30 con il pomeriggio le due finali, quindi quella del terzo quarto e la finalissima, primo e secondo. Grazie a tutti.